con Leonardo Saccone una settimana fa ci eravamo trovati qui a commentare la partita di molto ramarica di dispiaciuto oggi invece sei più che contento assolutamente sì abbiamo vinto abbiamo cercato una gran vittoria e l'abbiamo trovata adesso è giusto festeggiare con testa e pensare subito a giovedì e basta insomma e oggi ci hai messo anche la manona perché dopo una partita che fino a quel momento era più che chiusa si rischiava forse di andare a riaprire il match e di soffrire gli ultimi minuti invece hai detto no qui ci penso io e hai parato il rigore sì finalmente sì abbiamo subito troppi rigori a parer mio giusti o sbagliati eccetera eccetera sono sempre andato vicino a prenderla e ci hai voluto questo rigore qua sono contento ci sono arrivato bene quindi sono molto molto felice vale come un gol e adesso testa al prossimo impegno già giovedì perché si ritorna in campo contro la Folgore assolutamente è una squadra fastidiosa come l'era Legnano e quindi bisogna affrontarla con testa esattamente come abbiamo affrontato questa partita qua con personalità e carattere e veniamo fuori da questo periodo di me grazie 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 grazie